Buonasera Londra, ciao Eleonora. Ciao, ciao Andrea. Allora, siamo oggi a parlare di un argomento molto diffuso negli sportivi, in palestra, che sono i DCA, i disturbi del comportamento alimentare. Ma prima di tutto, perché ne stiamo parlando con te Eleonora? Chi sei, cosa fai? Ok, ciao a tutti. Allora, io sono una psicoterapeuta specializzata nel trattamento dei disturbi alimentari, e una biologa nutrizionista. Lavoro soprattutto con i disturbi alimentari, quindi diciamo che è un po' la sfera del mio lavoro. E in più, diciamo, ho anche una specializzazione sullo sport, quindi le due cose sono molto correlate, come abbiamo visto. In più, fai sollevamento pesi e fai sollevamento pesi, e quindi hai vissuto anche la palestra, l'allenamento. Hai quindi un background di più laurea in psicologia, in biologia della nutrizione e nel pratico in palestra. In palestra, sì. Hai tutti gli strumenti per poter comprendere, vivere e affrontare questo argomento. Allora, quanto è presente nell'ambiente della palestra, il DCA? Allora, purtroppo è presente, nel senso che i disturbi alimentari, come dire, se noi andiamo a vedere un po' il nucleo della patologia, vedono nello sport e nella forma del corpo, come dire, il nucleo patologico, quindi io metto molta attenzione rispetto alla mia gestione del peso e della forma del corpo come valore personale, e per raggiungere una certa forma del corpo, un certo peso, metto in atto determinati comportamenti, tipo delle diete di un certo tipo, e la compensazione tramite lo sport. Quindi, chiaramente, lo sport, che ovviamente è uno strumento di benessere, lo sappiamo, può diventare un problema se diventa la compulsione, cioè se diventa una compensazione di un'ansia. Ho paura che ingrasserò, ho paura che il mio corpo non va bene, non verrò accettata, non valgo, vado in palestra per modificarlo ed essere più accettabile, per avere anche solo io, come dire, un rimando rispetto a vado bene, sono bella, ho delle forme che in qualche modo vanno bene per la società. Quindi, il punto è, lo sport va benissimo, bisogna capire, essere consapevoli, diciamo, se diventa uno strumento di benessere o se diventa uno strumento di angoscia. Chiaramente, i disturbi alimentari sono diversi, e quindi anche lo sport ha dei ruoli diversi in ogni disturbo alimentare. Ci sono, appunto, i tre disturbi alimentari principali che conosciamo, appunto, sono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il binge eating. L'anoressia nervosa si basa soprattutto su un estremo controllo rispetto all'alimentazione, quindi tendenzialmente è il fatto di essere ossessionata dalle calorie che vengono introdotte, tendenzialmente la dieta è estremamente restrittiva, sia dal punto di vista calorico che è dal punto di vista di qualità, di quello che viene introdotto, quindi si arriva a un basso peso corporeo con tutti i problemi che crea. Questo, diciamo, basso peso corporeo viene creato anche grazie allo sport, all'iperattività, quindi io utilizzo una dieta molto restrittiva, ma anche utilizzo lo sport come modalità per bruciare le calorie, e quindi bisogna chiedersi, no, qual è la mia motivazione nell'andare in palestra. Poi anche qui, come dire, ci sono diversi livelli, non è che è sbagliato del tutto dire vado in palestra perché mi aiuta, come dire, a seguire un'alimentazione, a creare un deficit calorico, non è che questo è il problema. Il problema diventa quando inizia a esserci, come dire, la patologia, nel senso che prende la maggioranza del mio tempo, diventa qualcosa di estremamente angosciante, diventa qualcosa di estremamente rigido, mette in difficoltà le mie relazioni, mette in difficoltà il mio lavoro, mette in difficoltà il mio corpo, no, per cui inizio ad essere estremamente, come dire, magro, estremamente malnutrito, e tutto quello che poi concerne l'anoressia nervosa. Nella bulimia... Sì? Ti interrompo perché utilizzo un'immagine che mi hai insegnato te, che è quello della torta. Esatto, esatto. Nel senso che la nostra soddisfazione personale, la nostra realizzazione, è una torta, un grafico a torta, in cui ci può essere la famiglia, con le relazioni, con gli amici, i familiari, ci può essere il lavoro, ci possono essere passioni, hobby, e poi c'è l'aspetto estetico, c'è, come vediamo il nostro corpo, che è giusto che occupi uno spazio all'interno di questa torta, il problema è che se questo spazio inizia a mangiarsi tutti gli altri e diventa predominante, diventa disfunzionale. Esatto, esatto, è proprio questo. È proprio questo la base, diciamo, al nucleo. Se il mio valore si basa, come dire, nella maggioranza del tempo, essenzialmente sulla gestione della mia alimentazione, del mio peso, della mia forma del corpo, è chiaro che diventa un problema, perché puntare tutto su una carta, che poi non sempre è estremamente controllabile, è chiaro che è estremamente rischioso, fondamentalmente, oltre a creare un circolo vizioso, perché più io mi focalizzo solo su un aspetto, e più devo focalizzarmi solo su un aspetto, perché se va male quello, va male tutta la mia vita. Quindi questo diventa poi patologico insieme. Tutto in un'azione di un'azienda, e se poi quell'azienda va male, perdi tutti i soldi. Esatto, 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 infatti l'esempio che faccio è quello tendenzialmente della roulette, quando si va a giocare, cioè se io punto tutti i miei soldi su un numero, avrò, io mi immagino, no, mi metto lì, avrò un'ansia esagerata che quel numero esce, oppure no. Se invece metto i miei soldi su diversi numeri, è molto diverso, nel senso sicuramente avrò l'ansia comunque, però molto, molto meno, perché io ho distribuito i miei soldi in tanti aspetti. E questo chiaramente diventa un problema. Una domanda, abbiamo parlato di anoressia e l'abbiamo associata all'eccessivo sottopeso, la magrezza, eccetera, eccetera. Sì, un bodybuilder, una bodybuilder che ha una percentuale di grasso molto, molto bassa, ma ha una percentuale di massa magra anche superiore alla norma. Sì. Possono essere dei, come dire, non sembrare anoressici, perché ci sono altri aspetti come la sarcopenia presente negli anoressici e non negli atleti, ma avere un profilo psicologico simile all'anoressico? Assolutamente sì. Assolutamente sì, questa è una bellissima domanda, nel senso che molte volte, se ci si basa solo per esempio sul BMI, che molte volte viene utilizzato come forma di screening per l'anoressia, delle volte non si vede che quella persona, in realtà, dal punto di vista di tessuto adiposo e quindi poi di comportamento alimentare, in realtà si avvicina molto al problema dell'anoressia, no? Per cui delle volte non viene visto. Così come non viene visto, per esempio, una persona che era estremamente sovrappeso e perde magari 30 kg nel giro di 5 mesi, quindi poi sembra normo peso, no? Magari, è solo che poi in realtà ha un comportamento anoressico, perché tende appunto a mangiare pochissimo, a fare iperattività e avere anche proprio dei pensieri che in realtà hanno una base sul comportamento anoressico. Quindi tendenzialmente non bisogna solo vedere il peso, perché questo è uno dei criteri, ma bisogna capire bene in generale l'anoressia e anche e soprattutto i pensieri che ci sono dietro, no? Per cui magari una persona, al contrario, potrebbe essere sottopeso, ma non avere i criteri per rientrare nell'anoressia nervosa. Quindi è molto importante, come dire, come sempre, personalizzare, no? Per cui non tutte le persone che fanno bodybuilding hanno un disturbo alimentare. Magari i comportamenti possono essere simili, bisogna capire che pensieri ci sono dietro. Una persona che fa bodybuilding nel long season è estremamente rigido nella sua dieta. Chiaramente magari perde molto peso per avere delle masse muscolari evidenti, il tessuto adiposo, come dire, poco presente. Può sembrare che abbia un comportamento, come dire, assimilabile a un'orossia nervosa, ma in realtà poi nell'off season è tranquillo, non ha nessun tipo di problema, è flessibile. Il suo valore dipende da tantissimi altri aspetti e non solo dallo sport. E quindi questo vuol dire che tendenzialmente non ha un disturbo del comportamento alimentare, ma è lo sport. Diciamo che magari l'esempio non è appropriato, però sono un bodybuilder che gareggio, è logico che durante il periodo sotto gara, pre gara, magari con gli amici non ci esco, o se esco mi porto la sportina, mangio solo l'insalata, perché a breve termine, medio breve termine, ho il mio obiettivo. Un altro conto che non ci esco mai tutto l'anno, perché tutto l'anno sono ossessionato da questa roba qua. Esatto, esatto, è proprio questo. È proprio questo, nel senso bisogna capire bene il pensiero che c'è alla base e appunto quel grafico a torta. Se io baso tutto sulla mia gestione della mia forma del corpo, il bodybuilding, il mio sport diventa il mio valore, allora potrebbe entrare a sviluppare un disturbo del comportamento alimentare. Se invece lo sport, il lavoro, perché poi per alcune persone un lavoro è una parte del mio grafico a torta, chiaramente durante l'off season, durante il pre gara ci saranno degli obiettivi, ma come chiunque nel lavoro o nello sport agonistico. Però poi nell'off season è in grado di, come dire, dare priorità anche a altri aspetti in maniera flessibile. Quindi già questo, come dire, fa capire che solo un comportamento… Per esempio ho visto cadere in depressione degli atleti, non parliamo più di bodybuilder, perché non avevano un approccio alla dieta così rigoroso, ma nel momento in cui si infortunavano e non potevano più allenarsi, cadevano in depressione. Esatto. Perché anche lo sport, magari questi si allenavano X ore al giorno, senza essere atleti professionisti che campano di quello. Quindi erano dei ragazzi che lavorano e hanno la passione di allenarsi. Certo. In cui però non mi posso più allenare perché mi sono fatto male a un braccio. Esatto. Cado subito in depressione. Diventa un problema. Per me l'allenamento era la parte centrale e unica della mia vita. Esatto, esatto. Anche questo è importante. Nel senso che l'infortunio è un altro aspetto su cui mettere attenzione. Nel senso che molte volte, anche nella pratica clinica, io noto che un infortunio è un fattore scatenante di un disturbo alimentare. È chiaro che non è solo l'infortunio, ma c'era una predisposizione. Però chiaramente l'infortunio è proprio il fattore precipitante che poi fa sviluppare il disturbo alimentare perché fa venire fuori il fatto che la persona basava gran parte del suo valore sullo sport, sulla gestione del peso, sulla gestione delle forme corporee. E quindi poi una volta che si toglie quell'aspetto diventa un problema e quindi si attuano poi dei comportamenti disfunzionali. Questo non vuol dire che dopo un infortunio non ci può essere un momento di difficoltà. È chiaro che se per una persona lo sport è un aspetto importante della vita, ci può essere un momento di difficoltà, sia dal punto di vista di umore che di gestione del tempo, assolutamente. Però se diventa, come dire, qualcosa di continuativo e di particolarmente presente nella vita, può essere un problema reale. Può far capire tante cose alla persona, da questo punto di vista. Io ti ho interrotto e ripassata alla bulimia. Sì, la bulimia. Allora, cosa cambia tra la bulimia e l'anoressia? Tendenzialmente la bulimia ha una presenza di abbuffate, cioè di un comportamento alimentare dove la persona tende a perdere il controllo e introduce una grande parte del cibo in un periodo limitato. In quel momento la persona è in difficoltà nell'essere consapevole del suo comportamento, molte volte è un comportamento automatico, fa fatica, come dire, a bloccarlo consapevolmente, si vergogna, si sente in colpa. Le abbuffate sono presenti per, come dire, almeno due o tre volte alla settimana, poi appunto i criteri sono semplicemente dei criteri, comunque sono presenti più volte alla settimana. e la persona, proprio per il senso di colpa e l'ansia che sperimenta dopo la buffata e per la paura che il suo corpo si modifichi, mette in atto dei comportamenti di compenso che possono essere dal vomito allo sport, per esempio, all'utilizzo di lassative diuretici. Una cosa che sottolineo spesso è che si pensa che la maggioranza delle persone che soffrono di bulimia nervosa mette in atto come sistema di compenso il vomito e in realtà è molto, molto, molto presente come meccanismo di compenso lo sport. Lo sport, l'iperattività e magari la restrizione calorica successiva. Quindi molte volte una persona pensa di non soffrire di bulimia nervosa perché non vomita e quindi non soffro. In realtà non è così. Il campanello di allarme potrebbe essere dopo che ho fatto uno sgarro, ho mangiato tanto il giorno dopo digiuno, salto i pasti. Esatto, esatto, esatto. Da mestremo all'altro, nel senso... Esatto, esatto. Hai detto una cosa molto importante. L'hai utilizzata la parola sgarro, no? Molte volte il discorso del passo libero e dello sgarro può essere una buffata, tra virgolette, chiamata programmata. Nel senso che io restringo per la maggioranza del tempo durante la settimana ma sogno, penso, programmo al minimo dettaglio poi il giorno sgarro o il pasto sgarro o il pasto libero del weekend, no? E bisogna stare attenti quanta enfasi io metto su quel pasto, no? Magari una cosa che noto spesso è la pizza non era buona come mi immaginavo, c'è un livello di frustrazione talmente alto che poi mi porta a perdere il controllo o mi porta a vivere un disagio estremamente forte, no? E questo, come dire, può essere un campanello di allarme che forse questa modalità non è particolarmente salutare. Magari sto restringendo troppo non dal punto di vista calorico ma magari dal punto di vista cognitivo. Una domanda, perché ci sono persone che fanno lo sgarro con la pizza ma ci sono persone che si sfondano di cibo sano. È una forma di ortoresia? È comunque sempre una forma di bulimia? Cioè, è semplicemente una scusa quello che è cibo sano e allora mi posso sfondare? In quel caso va bene? Come lo giudici? Eh, diciamo, sì, dipende sempre dal pensiero che c'è dietro però è possibile che una persona proprio perché ha paura di ingrassare, di, come dire, andare troppo oltre, di non avere il controllo dal punto di vista alimentare tende a modificare il suo passo libero ottenendo comunque degli alimenti sani ma essendo più tranquilla, adesso uso il femminile perché tendenzialmente la maggioranza sono le donne ma non è scusa la categoria maschile appunto pensa che in qualche modo il cibo sano possa fare meno male nel senso mi possa fare ingrassare meno possa modificare meno le mie forme corporee o nel caso io perda il controllo possa avere un impatto minore, no? Quindi se questo è il pensiero di base ecco, sicuramente è disfunzionale se invece per la persona dice no, guarda, a me piace quello che io mangio durante la settimana semplicemente non voglio avere come dire, l'attenzione al grammo che magari durante la settimana utilizzo allora quello assolutamente potrebbe essere un comportamento funzionale bisogna sempre capire che cosa c'è di base è chiaro che, come dire, come hai detto tu la parola sfondarsi o comunque perdere il controllo sull'aspetto alimentare è comunque sempre un campanello d'allarme perché quando perdo il controllo vuol dire che tendenzialmente da qualche parte ne sto tenendo troppo difficilmente noi lo perdiamo se non ce ne abbiamo così tanto quindi bisogna sempre stare attenti faccio un mia colpa nel senso che ci sono stati dei periodi in cui noi in primis abbiamo proposto modelli di ricomposizione corporea di chetogeniche cicliche nel senso andavano molto di moda periodi in cui per metà settimana mangiavi il 50% del tuo TDE quindi siamo nel semidiguno nel senso veramente diete da fame dopodiché ci avevi due o tre giorni di ricariche con altissime calorie questi protocolli possono portare a disturbi del comportamento alimentare portano a disturbi del comportamento alimentare non portano a disturbi del comportamento alimentare allora possono portare possono portare nel senso che o come dire le persone che hanno una predisposizione allo sviluppo di un comportamento alimentare mettono in alto questi protocolli non si capisce ancora bene la correlazione alla direzione sicuramente c'è una correlazione tra determinate modalità alimentari e un disturbo alimentare perché chiaramente se io tendo a restringere molto le calorie sia dal punto di vista calorico che cognitivo spesso è possibile che poi ci sia una perdita di controllo e la persona lo faccia come dire diventi poi un comportamento ricercato siccome io so che sabato e domenica perderò il controllo allora poi effettivamente durante la settimana mi torna comodo il fatto che mi dicano che devo mangiare il 50% delle mie calorie quindi sì potrebbe portare a un disturbo alimentare come potrebbe esserci già e questo potrebbe portarlo avanti in qualche modo essere ricercato come modalità in altre persone invece potrebbe essere semplicemente una modalità che è comoda il digiuno intermittente anche questa pratica è allo stesso modo un qualcosa su cui riflettere per alcune persone potrebbe essere estremamente comodo durante la giornata non riesco a mangiare non mi è comodo come dire mi dà anche fastidio farlo mangio la maggioranza delle mie calorie alla sera o comunque tarda sera e sera ci sono altre persone che invece lo utilizzano proprio come un continuo circolo vizioso tra restrizione durante la prima parte della giornata e perdere di controllo durante l'ultima parte quindi insomma bisogna sempre capire qual è il meccanismo e soprattutto come uno si sente cioè se io il digiuno intermittente lo vivo tranquillamente senza sensi di colpa senza ossessione con tranquillità potrebbe essere che semplicemente è una modalità che va bene per me se invece lo vivo con l'angoscia di oddio le prime 8 ore non devo mangiare mi raccomando mangio tantissime cicche bevo tantissimi caffè bevo tantissime coca cola a zero mi distraggo fino a anestetizzarmi perché non riesco a pensare a non mangiare e poi in qualche modo mi sento di perdere il controllo quando ho la finestra dove posso mangiare ecco lì potrebbe essere un aspetto della bulimia nervosa insomma molto molto interessante e tutte queste cose le troveremo nel tuo libro Eleonora e anche perché sì sì vai 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 te vai te no no come dicevi tu si si troveranno nel libro proprio parte dalla l'intento di questo libro diciamo che con Eleonora uscirà un libro targato Project Invictus a Natale ecco perché sì 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 se no manca il punto l'intro esatto sì l'obiettivo di scrivere questo libro era un po' innanzitutto togliere spiegare bene i disturbi alimentari perché molte volte c'è confusione anche solo nella rigidità dei criteri e ho sottolineato molto quelli che sono i disturbi sotto soglia perché molte volte le persone magari che frequentano la palestra non si sentono di rientrare dei criteri specifici dei disturbi alimentari ma in realtà tendenzialmente ci rientrano comunque il livello di sofferenza è tale da come dire rientrare in una sfera patologica o comunque in una sfera di difficoltà quindi ho chiarito un po' cosa sono i disturbi alimentari come si come dire interpretano in palestra diciamo che cosa quali possono essere i comportamenti che noi possiamo mettere in atto in palestra o che possiamo notare in palestra quindi c'è tutto un approfondimento sullo sport e il disturbo alimentare e poi quello che fondamentalmente è l'ultimi capitoli è la parte di gestione perché ok parliamo di cos'è un disturbo alimentare come si sviluppa nello sport diciamo togliamo alcuni miti e leggende intorno allo sport e disturbi alimentari ma quindi cosa posso fare nel caso io mi riveda non in un disturbo alimentare appunto parlo di psicoterapia sicuramente perché chiaramente questa è la base parlo degli approcci nutrizionali che potrebbero appunto come detto tu prima avere una correlazione con il disturbo alimentare aiutarmi a gestire un disturbo alimentare se vado da un nutrizionista cosa mi devo aspettare in cosa mi può aiutare quale potrebbe essere il percorso e poi vengono dati degli spunti per magari riflettere su il mio comportamento su come mi fa sentire su come potrei gestire magari determinate modalità mi alimentare in generale le emozioni perché poi anche questo non abbiamo parlato del binge eating anche se poi in generale appunto anche l'anoressia e la bulimia ha a che fare con le emozioni chiaramente espresse anche tramite il disagio nel comportamento alimentare però appunto molto spesso il binge eating quindi la persona che perde il controllo alimentare e come dire sviluppa delle abbuffate sono basate su una gestione disfunzionale delle emozioni e quindi anche questo come posso riconoscere quali sono le mie emozioni come posso gestire in maniera diversa e non basata solo sull'alimentazione quindi questo è un po' in generale il libro quello che tratterà il libro sì che non vuole essere perché già sento le critiche di qualcuno che dice poi incentivi l'autodiagnosi e l'autocura assolutamente no sostituire un professionista anzi poi una delle cose che ci siamo dimenticati di dire quando ti abbiamo presentato che sei una docente del corso di nutrition proprio per biologi nutrizionisti quindi fai anche formazione ad altri professionisti ma detto questo ormai in un mondo in cui le informazioni corrono su google uno può fare quello che vuole avere un manuale di base per i disturbi del comportamento alimentare per la palestra per lo sport era importante averlo per migliorare la consapevolezza delle persone di questo ambiente esatto proprio questo è il punto perché sui social su internet in generale ci sono tante modalità se io scrivo come posso fermare le abbuffate per esempio arrivano migliardi di tecniche il punto è che è difficile un po' contestualizzare essere consapevoli quindi il libro cerca di colmare questa lacuna nel senso cercare di dare una forma senza prendere strategie qua e là senza magari essere pienamente consapevole di cosa sto vivendo io quindi un po' era questo l'obiettivo non tanto farsi una diagnosi quanto magari diventare più consapevoli di determinate modalità che mettiamo in atto e di anche la speranza di sapere che si può gestire in un certo modo ma anche dall'altra parte non patologizzare alcuni comportamenti perché poi c'è anche questo cioè certe volte non siamo consapevoli certe volte invece patologizziamo laddove non ha da patologizzare quindi bisogna come dire era un po' questo l'obiettivo cercare di sviluppare consapevolezza assolutamente non farsi autodiagnosi o autotrattamenti ecco sono la prima assolutamente a non voler questa cosa bene bene io sono sicuro che contribuirà a migliorare il nostro ambiente il tuo libro quindi non vedo l'ora che esca immagino che tu che sei l'autrice ancora esatto anche io vi lascio i contatti di Eleonora sotto al video in modo che se la volete contattare sapete dove farlo grazie mille Ele spero di averti come nostro ospite grazie a tutti quelli che ci hanno seguito grazie mille ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti